Buongiorno a tutti, a tutte, benvenuti a questo nuovo incontro domenicale, come ormai abitudine da alcuni anni, nonostante il covid, come vedete noi siamo qui, seppure in modalità a distanza. Oggi è l'ultimo incontro prima della pausa estiva e siamo veramente molto felici di avere qui con noi il professor Ugo Bardi, il professor ordinario Ugo Bardi, professore di chimica e fisica, che introdurrà un tema molto molto importante. Il professor Bardi non ha bisogno di essere introdotto, ma senza dubbio è importante ricordare il suo impegno nella ricerca, soprattutto in questo controverso tema del rapporto tra sviluppo economico e uso delle risorse, non a caso fa parte del club di Roma, che come sapete già dagli anni 60 si occupa di, un club di studiosi, professori, ricercatori di tutto il mondo, di studiare appunto questo rapporto di Maltusiana memoria tra lo sviluppo economico e le risorse naturali, un rapporto ovviamente molto critico. Oltre a questo ovviamente il professor Ugo Bardi ha scritto molti libri, mi ricordo con piacere la fine del petrolio, un libro molto importante, molto interessante, scritto alcuni anni fa, che purtroppo dal titolo non si è avverato, perché siamo ancora, come penso parleremo in parte oggi, siamo ancora nell'era del petrolio, nonostante tutti i problemi legati all'inquinamento e al cambiamento climatico. Veniamo quindi al tema di oggi, come vedete il titolo è il cambiamento climatico, cosa rischiamo esattamente? Il professor Ugo Bardi ci spiegherà ovviamente questa importante sfida che abbiamo per il futuro, di comprendere, ma anche trovare eventualmente, possibilmente soluzioni a questo cambiamento del clima. Vi ricordo, prima di iniziare la lezione, come funzionano le nostre mattinate, le nostre giornate qui in rettorato, gli incontri con la città, come vedete, dovreste vedere inquadrato il numero di un cellulare, io raccoglierò le vostre domande che potete inviare in qualsiasi momento della lezione, chiamiamola così, del professor Bardi e alla fine della sua speech, della sua lezione, io proporrò al professore le vostre domande. Quindi non esitate a mandare al numero che vi ricordo essere il 347-580-4905, le vostre domande, ovviamente brevi, ovviamente chiare il più possibile e io le esporrò al professore. Direi che non prendo altro tempo alla relazione del professor Ugo Bardi, che prego di... Rimane perfetto. Possiamo iniziare. Allora, buongiorno, mi sentite? Buongiorno a tutte e tutti, sì, sembra funzionare. Allora ringrazio Filippo per la presentazione. Ora gli chiederò un altro piccolo sacrificio per questa impresa di fare il topo per un attimo, ma aspetta un secondo che vi racconto cosa stiamo facendo oggi. Facciamo una presentazione molto rilassata, perché come ha detto Filippo, siamo alla fine di questa serie, l'estate sta avvenendo, quindi in estate, quando si vanno a vedere i film dell'orrore, la sera al cinema all'aperto, quindi noi ci divertiamo ora a fare una carrellata delle cose peggiori che possono succedere. Come quando si va a vedere il film catastrofista, c'è lo tsunami, il terremoto, il vulcano, l'invasione degli zombie, tutte queste cose qua. Con attenzione, perché ogni tanto qualcosa va anche male, davvero. Allora, Filippo, io ti vorrei chiedere di immaginarti di essere un topo. Anche voi, immaginatevi di essere un topo. E vi trovate davanti quel laggeggio che c'è laggiù, che spero che la regia faccia vedere. Vedete, quello è una sorgente d'energia. Come topi. Dice, ma guarda che bello questo arnese, che qui c'è molta energia immagazzinata in questo strano oggetto che si chiama molla. Chissà che non si potesse utilizzare per affettare il formaggio, forse per spaventare il gatto. E dal punto di vista del topo, la trappola è una tentazione irresistibile. Prova, Filippo, a vedere cosa succede. E, come vedete, la trappola è una rappresentazione della questione termodinamica che l'entropia tende a dissiparsi rapidamente e viene dissipata dalla molla, che è una metafora del nostro rapporto con l'energia. Alle volte abbiamo talmente tanta energia che ci fa dei danni. E questa è l'idea che ho sviluppato, cerco un po' di sviluppare in questa presentazione, basandomi anche su un'idea che risale al filosofo romano Seneca, che è stato il primo a dire, dice, guardate signori, ogni tanto le cose vanno veramente male. Lui aveva questo grosso vantaggio che viveva duemila anni fa, non c'era già tutta la letteratura scientifica che abbiamo oggi. Era facile essere il primo a dire qualcosa, anche il primo che inventava, non so, la torta alla crema. All'epoca, duemila anni fa, si potevano fare cose che oggi non si possono fare, ma c'è rimasto questo che io chiamo l'effetto Seneca, il fatto che le cose alle volte vanno male molto rapidamente e se siete un topo dovete stare molto attenti alle trappole. Allora, da questa prima diapositiva, che spero che vediate sullo schermo, vi rendete un po' conto di cosa andiamo a parlare, anche se siete un dinosauro, per ipotesi dovete preoccuparvi degli asteroidi, molto preoccupante, ma vorrei cominciare con una cosa un tantino diversa. Un'altra cosa molto preoccupante, come vi dicevo, e sto parlando di tutte le cose più terribili. Allora, siamo arrivati a Bikini Lagoon, la D-Data, la D-Data, la D-Data, la D-Avonica, la D-Bombe, la D-Bombe, la D-Bombe, la D-Avonica, la D-Avonica, la D-Bombe, la D-Bombe, la D-Avonica, la seconda e da questo filmato credo che abbiate imparato un paio di cose primo da dove viene il termine bikini che venne di moda a quell'epoca da questa esplosione si è un po' persa questa memoria ma l'idea era quella la seconda cosa è che contro un'esplosione nucleare come avete visto basta mettersi così per ripararsi e che come ben sappiamo le esplosioni nucleari le bombe nucleari sono cose molto pericolose ancora oggi ne esistono alcune decine di migliaia nel mondo e il pericolo, il rischio di una guerra nucleare non è per niente sparito si spera che non avvenga non è avvenuto dal 1955 a oggi però è una di quelle cose che se siamo esseri umani o se siamo topi o anche dinosauri è preoccupante nettamente preoccupante allora volevo partire dall'esplosione nucleare per esaminare un po' cosa succede questi fenomeni che sono esplosivi fenomeni fenomeni che sono molto generali è una parte della fisica o della chimica se preferite se siete un chimico questo diagramma vi appare molto familiare che l'universo qualunque cosa tende ad andare nella direzione di abbassare i potenziali termodinamici passare da uno stato metastabile a uno stato stabile questo è normale è una parte della termodinamica come la trappola per il topo tende ad andare in uno stato stabile topo vivo è uno stato metastabile topo morto è uno stato stabile anche per quanto riguarda una bomba nucleare la bomba inesplosa è un pezzo di metallo l'uranio dentro la la bomba è qualche decina di chilogrammi è un pezzo di metallo che però in certe condizioni particolari messo in certe situazioni in una certa condizione può esplodere dopodiché divene stabile stabile nel senso che una volta che il fungo atomico si è sviluppato i gas spariscono e non è che dal fungo atomico si rifà una bomba nucleare e sparisce si dissolve lasciando ovviamente un po' di danni e un po' di radioattività questo è molto molto generale e mi ci vorrei perdere un attimino di tempo per vedere come funziona capite forse avete visto questo una volta era più di moda l'energia nucleare le esplosioni nucleari queste cose ma probabilmente vi ricordate forse l'avete visto in televisione forse l'avete studiato al liceo forse all'università ma sapete che una reazione nucleare è una reazione catalitica dove il catalizzatore è un neutrone il neutrone colpisce un atomo di uranio 235 è un tipo particolare di uranio che si splitta si scinde si fissiona se volete usare questo termine in due pezzetti che generano altri neutroni che generano che vanno a colpire altri nuclei di uranio che eccetera 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 se ci pensate se ci pensate un attimo questo è anche il meccanismo di un'epidemia l'epidemia di coronavirus che ci ha colpito funziona esattamente così invece di un neutrone qui immaginatevi un virus e che questo sia un essere umano funziona esattamente così un virus vi colpisce viene riprodotto dalle vostre stesse cellule in molte copie e poi va a infettare altri esseri umani questo tipo di cose comincia a essere noto dal secolo scorso circa queste si chiamano reazioni a catena ci si lavora in chimica ma anche nella fisica nucleare e tante cose e siccome oggi sono partito dalla trappola per topi la trappola per topi piace molto ai fisici e nel 1947 il signor Sutton non viene spesso riconosciuto a questa sua invenzione ma lui cominciò a dire la trappola per topi la posso usare come un modello per un'esplosione nucleare lui diceva se io metto due tappi di sughero faccio scattare la trappola se ho molte trappole i tappi di sughero vanno a far scattare altre trappole che vanno a stranciare altri tappi di sughero che vanno a scattare altre trappole e ho una reazione a catena che è diventata molto popolare dal 1947 a oggi se andate su internet ne trovate decine di queste idee qui il signor Lidl dell'università di Berkeley mi ha dato il permesso di far vedere questo suo esperimento che forse avrete già visto ma è un modello meccanico di un'esplosione nucleare vedete ci sono molte trappole in questo caso per la salvezza delle dita dell'esperimentatore vengono azionate da dei solenoidi che vengono azionate una volta quando una palla colpisce questa placchetta di metallo fa scattare la trappola vedete quante cose si imparano dalla trappola per topi andate a vedere come funziona questo esperimento qui proviamo una palla un neutrone un virus reazione a catena forse ve la ricordate si vedeva anche questo stesso esperimento nel film di Walt Disney il nostro amico Atomo che era del 56 credo che è interessante questo è una cosina divertente però uno si può domandare se ci pensate dal punto di vista di un fisico di un chimico come me la modellizzo questa cosa come ci penso sopra molte volte anche quando si parla di cambiamento climatico che è un altro di questi fenomeni che sono generati da reazioni a catena reazioni che chiamiamo autocatalitiche spesso dove l'equazione dove l'equazione della trappola per topi nel dibattito sul clima spesso trovate anche persone che dicono il cambiamento climatico non esiste perché io non so dov'è l'equazione del clima portatemi l'equazione del clima e allora ci crederò però non c'è un'equazione del clima o almeno non c'è una singola equazione che descrive il clima sono situazioni sono entità un oggetto di questo genere difficilmente lo rappresentate con un'equazione ci potreste anche provare ma sappiamo tutto di questo sistema ma non è così semplice ma non è facile tirar fuori un'equazione per come funziona e allora vorrei far vedere invece come è la tendenza attuale che cosa si tende ad utilizzare adesso per modellizzare questo tipo di cose appena riesco a far muovere questo arnese che sto pigiando disperatamente questi questi scusate un secondo diciamo ma tu ti occupi di trappole per topi o riesci a far funzionare eccolo qua l'evoluzione dei sistemi complessi adattativi ora vi racconto come funziona questa cosa sono tantissimi sistemi che obbediscono alle stesse leggi o comunque si possono descrivere con la stessa matematica con gli stessi modelli e sono veramente tanti è tutta una questione la differenza è una scala di tempo un'esplosione nucleare è una reazione a catena che ha una durata di circa un decimo di microsecondo se volete cento nanosecondi un'epidemia che è lo stesso tipo di fenomeno molto simile si usano le stesse equazioni ha una durata come sapete di qualche mese una popolazione biologica può avere una durata di anni oppure l'estrazione di risorse minerali anche quella può avere un ciclo decennale il riscaldamento globale e le estinzioni di massa possono avere cicli anche di migliaia decine di migliaia di anni ma sono tutte cose simili la curva che descrive questi sistemi è una curva che noi chiamiamo alle volte curva campana o curva gaussiana se preferite e questa se ci pensate un attimo descrive anche un'esplosione l'esplosione nucleare va su molto rapidamente e poi scende giù come poi vi ha detto anche Seneca di queste cose e ce ne sono varie versioni può essere simmetrica simmetrica quella che vedete qui sotto è un'epidemia l'epidemia tipicamente declina lentamente ma è lo stesso tipo di curva lo stesso tipo di cosa allora vi faccio vedere come si analizza adesso facciamo un po' di lezione di matematica resistete 5 minuti non andate via diciamo si abbiamo andato alla spiaggia c'è un costume da bando no aspettate un attimo vi faccio vedere vi faccio vedere una piccola descrizione matematica di questo oggetto eccolo aspettate resistete perché dovete resistere 3 secondi questo è un modello matematico di un'esplosione nucleare o anche di un'epidemia o anche di un'estinzione di massa o anche del cambiamento climatico al nocciolo è poi ovviamente molto più complicato di così e ve lo volevo far vedere perché rappresenta forse non tutti se ne rendono conto un modo di lavorare che è tipico di un certo sistema che utilizziamo oggi per capire i sistemi complessi sistemi detti complessi adattativi che non si prestano a fare all'equazione non c'è un'equazione del cambiamento climatico ma noi li rappresentiamo con questi sistemi e vedete queste scatole qua questi rettangoli sono delle scatole che contengono qualcosa in questo caso contengono energia dentro questa scatola vi ho detto al programma ci sono i neutroni all'interno dei nuclei di uranio dentro questa scatola qui più in basso ci sono i neutroni liberi resistete? ci siete? state seguendo? vedo l'udienza qui non è numerosa però stanno seguendo con molta attenzione li vedo molto concentrati anche voi che mi state sentendo a distanza sono sicuro che non vi state perdendo una parola di quello che sto dicendo resistete? allora che succede? cosa vi dice il programma? qui dice beh se il neutrone non reagisce con i nuclei beh sparisce vedete la curva qui? va in basso va giù e sparisce e qui zero ho messo uno zero per far vedere che il neutrone non reagisce con i nuclei di uranio però io posso qui cambiare la cosa posso muovere questo cursore e dirgli beh no aspetta comincia a reagire gli do un numero un coefficiente in tempo reale vedete come funzionano questi programmini questa è la fisica fisica di base anche fisica divertente che state simulando qui un'esplosione nucleare variando il coefficiente di reazione dei neutroni con i nuclei vedete l'esplosione che viene fuori eccola qua esplosione questa ci credete? questo è il divertimento della fisica moderna della fisica modellistica di fare modelli con attenzione perché bisogna ricordarsi che c'è un mondo reale anche per l'epidemia tutti i modelli fatti non tutti hanno funzionato anzi alcuni hanno funzionato malissimo quindi con attenzione però è anche vero che questi modelli descrivono come funziona una reazione nucleare un'epidemia un'estinzione di massa un cambiamento climatico tantissime cose vi faccio vedere qualche altra cosetta ora usciamo da questo programmino e torniamo dal powerpoint scusate un attimo vedo se riesco a metterlo 10 secondi che ci riesco schermo intero eccolo qua e questo è quello che vi ho fatto vedere e questa è la descrizione di un'epidemia se vi incuriosiva sapere adesso come funzionavano questi famosi modelli di cui si è tanto parlato è lo stesso identico modello di un'esplosione nucleare l'epidemia di coronavirus è un'esplosione di virus all'interno della popolazione umana e funziona allo stesso modo stessissimo modo si chiama modello SIR Suscettible Infected Recovered le persone iniziano tutti sono infettabili suscettibili diventano infetti e poi spariscono guariti o morti sperabilmente più guariti che morti ovviamente però la stessa cosa e questi sono i risultati stesse curve non vi sto a dare andare nei dettagli il modello però vi fa vedere che l'epidemia va su e poi va giù come è successo del resto questi sono i dati vedete qui per esempio dei vari dati che abbiamo sono i casi giornalieri che adesso siamo quasi a zero ma non proprio siamo intorno a ancora ogni giorno c'è un centinaio di casi fra le altre cose questo è il modello che vi produce il famoso fattore R avete sentito parlare di questo fattore R di cui ha parlato anche il governatore del Veneto Zaya l'altro giorno io onestamente non sono sicuro che lui sappia esattamente che cos'è questo fattore R non voglio dire che non lo sappia però R non è niente di particolare è semplicemente una misura della pendenza della curva quando R è maggiore di 1 la curva sale come qui quando R è minore di 1 la curva scende il bello di questa faccenda è che quando sei qui in fondo dove non c'hai praticamente più casi R è vicino a 1 quindi basta una piccola fluttuazione per farlo diventare capito è ben diversa la cosa se c'è R1,6 come è visto in Veneto l'altro giorno R,6 vuol dire se c'hai 100 casi il giorno dopo ne hai 160 però se ne avevi 10.000 era un'altra cosa 16.000 non è una cosa preoccupante se tu c'hai una cinquantina di casi in più perché sono normali oscillazioni di un'epidemia che tende a dissiparsi ormai come un'esplosione nucleare che ormai è sparita come un incendio boschivo che è ancora dei fuocolai quando si prende fuoco un bosco rimane qualche fiammella qua e là però non è che il bosco riprende a bruciare comunque questa è la matematica dietro i modelli e per vostra curiosità è molto molto generale si può usare anche per la descrizione dell'industria della pesca non ci crederete ma il modello è lo stesso e ve lo faccio vedere in questo libro che abbiamo scritto con la mia collaboratrice l'Aria Perissi è uscito due settimane fa ve lo faccio vedere così ve lo accenno usiamo questo stesso modello che va bene per le bombe nucleari va bene per le epidemie e va bene anche per la pesca che segue le stesse curve che vedete qui perché l'industria lo sviluppo economico come diceva Filippo prima ha un suo andamento che è esplosivo quando l'industria trova qualcosa che può sfruttare cresce su quella risorsa la distrugge quello si chiama il sovrasfruttamento e poi può crollare può succedere questo si chiama il fallimento la bancarotta succede e in effetti quello che è successo al mare agli oceani è una specie di distruzione atomica perché l'industria ittica l'industria della pesca ha distrutto gli stock ittici di un numero di specie incommensurabili è stato un disastro spaventoso per questo abbiamo dato questo titolo che il mare svuotato non l'abbiamo chiamato non è il mare pieno una volta era ma ora il mare è stato svuotato e purtroppo qui è una situazione molto difficile è un'altra cosa catastrofica si vede molto meno della bomba atomica però c'è anche questa e poi adesso andiamo invece al nocciolo di quello che vi volevo raccontare oggi il cambiamento climatico che è un fenomeno è un'entità è un qualche cosa può essere anche bello disastroso detto fra noi che avviene seguendo stesse leggi termodinamiche le stesse leggi della fisica e vedremo ora usa anche quello dei modelli molto simili gli stessi modelli della bomba nucleare gli stessi modelli dell'epidemia gli stessi modelli della pesca entro certi limiti valgono anche per il cambiamento climatico e la dissipazione di un potenziale termodinamico esattamente come la molla della trappola per topi e questo nel caso del clima il potenziale è quello del sole il sole è il principale agente termodinamico del clima terrestre del fatto che noi abbiamo una certa temperatura qui intorno a noi quindi prima questione come si dissipa questo come arriva questo calore che ci arriva dal sole in forma di luce e diciamo due cose per cominciare dobbiamo stabilire che cos'è il motore del clima e diciamo che il sole è una sorgente di energia abbastanza costante dipende su che scala la guardate sapete tutti che ci sono i cicli solari le macchie solari gli undici anni delle macchie solari però questi cicli a breve termine undici poi ce ne sono anche di molto più lunghi anche delle migliaia di anni ma sono tutti cicli che hanno un minimo effetto piccolissimo sull'intensità della radiazione solare quello che chiamiamo cambiamento climatico non è dovuto a un cambiamento dell'intensità di emissione del sole che è un fattore sostanzialmente trascurabile attenzione però che dipende dalla scala se guardate tutta la storia della terra in realtà il sole cambia ma su una scala dei miliardi di anni miliardi di anni allora se cominciamo a parlare di miliardi di anni come tutti il mio pubblico sta facendo sì sì lo sapevate benissimo che in un miliardo di anni l'intensità del sole aumenta di circa il 10% deriva dai modelli di quello che sappiamo della fisica solare e dice ma cosa me ne importa a me dei miliardi di anni sì mi importa perché se voglio capire il meccanismo del clima terrestre devo capire la storia del clima terrestre devo capire come funziona il clima e soprattutto questo fatto interessantissimo che notate questo pianeta blu che c'è qui nella foto se è blu vuol dire che c'è acqua se c'è acqua vuol dire che la temperatura è entro limiti abbastanza precisi da 0 a 100 gradi se non l'acqua liquida non ci può essere e ci sono tante indicazioni che ci dicono che l'acqua esiste su questo pianeta dove siamo tutti non so voi siete collegati forse da anche altri pianeti ma qui su questo pianeta l'acqua esiste liquida da almeno 4 miliardi di anni vuol dire che la temperatura terrestre non è andata molto oltre questi limiti e quindi dobbiamo capire perché non è affatto detto e per caso potrebbe anche darsi c'è chi lo dice ma in realtà vedremo ci sono dei meccanismi che mantengono la temperatura a un certo entro certi limiti entro certi limiti allora una volta stabilito che il flusso è abbastanza costante poi vediamo cosa se ne fa di questo flusso e voi sapete queste cose non sto a dirvele in grossi dettagli ma tutti parliamo di effetto serra più se ne sente parlare tantissimo e questo vuol dire che quando la luce solare arriva sulla terra arriva sulla terra viene trasformata in radiazione infrarossa riemessa verso lo spazio e l'atmosfera ne trattiene una certa parte questo è l'effetto serra che è dovuto principalmente ai cosiddetti gas serra dei quali il biossido di carbonio detto vulgarmente anidride carbonica è uno dei principali altro fattore importante è l'albedo che è un nome un po' strano però per una cosa semplice che vuol dire semplicemente il coefficiente di riflessione parte della luce solare viene semplicemente riflessa indietro di più dal ghiaccio che è un albedo più alto di meno per esempio dalle foreste che hanno un albedo più basso ci sono altri fattori che hanno a che vedere con il trasporto di calore ma non entriamo in questo argomento quindi il gioco fra i due fattori principali effetto serra e albedo è quello che determina il clima terrestre e soprattutto la concentrazione di gas serra nel sistema terrestre allora il sistema di controllo della temperatura e questo è il bello state attenti so che state andando siete sulla spiaggia già con la paletta il secchiello per fare il castello di sabbia resistete altri due minuti non vi vado nei dettagli di questo però solo per farvi notare che è lo stesso modello di prima dove la temperatura terrestre viene gestita per mezzo della concentrazione di CO2 nell'atmosfera con qualche differenza per esempio qui è un ciclo mentre una bomba nucleare ha un solo ciclo sale e scende in questo caso il degassamento continuo di CO2 dalla crosta terrestre e dal mantello più che altro continuamente rifornisce l'atmosfera di CO2 che viene assorbita dalla biosfera per mezzo della fotosintesi che poi in parte viene immagazzinata nella crosta in forma di carbonio solido carbonio pirolitico cherogene combustibili fossili e tutta carbone tutte queste cose che non hanno più effetto sul clima ma questo stock qui ha un effetto sul clima mentre a sua volta il clima ha effetto sulla velocità di reazione il gioco fra effetti termici che hanno effetto sulla velocità di assorbimento della CO2 atmosferica all'interno della biosfera principalmente foreste ma anche plankton marino stabilizza il clima questo sistema tende a essere stabile se ci riesce tutto il grosso problema da quello che sappiamo oggi con molta attenzione perché questa roba è molto complessa quindi sto riassumendo decenni di lavoro ma questo il fattore cruciale è questo degassamento dalla crosta se non ci fosse il degassamento di carbonio dalla crosta la biosfera consumerebbe il carbonio atmosferico forse in qualche centinaio di miliardi di anni dopodiché esaurito il biossido di carbonio non c'è più fotosintesi il pianeta muore ma non è avvenuto perché ovviamente siamo a giro qui da 4 miliardi di anni vita sulla terra a quasi 4 miliardi di anni quindi è un ciclo che continua e che viene stabilizzato dai vari feedback quelle che chiamiamo retroazioni interne al sistema resistete altri due minuti vediamo di vedere le conseguenze di questa cosa per esempio questo è un lavoro recente di Forster ed altri vi fa vedere che negli ultimi 400 milioni di anni siamo su tempi lunghi non vi preoccupate ma stiamo cercando di capire come funziona il sistema negli ultimi 400 milioni di anni periodo più o meno detto fanerozoico se vi incuriosisce la forzante l'effetto termico del CO2 si è ridotto nel tempo con varie oscillazioni attenzione che oscilla molto a compensare il cambiamento dell'irradiazione solare che su 400 milioni di anni è importante ma la temperatura è rimasta abbastanza costante vediamo se qui ce l'ho beh non mi è sfuggita la slide con le temperature quello che comunque voglio dire è che la temperatura è costante nonostante il fatto che la radiazione solare sia in continuo aumento lentamente però la temperatura rimane abbastanza costante salvo occasionali disastri per esempio questo abbastanza famoso questo si chiama PETM PETM che vuol dire paleosine eosine termal maximum ed è uno spike tipo una bomba nucleare lo vedete questo qui 54 milioni di anni fa è uno di quei fenomeni catastrofici trappola per topi esplosione nucleare epidemia tutto quello che volete il sistema è soggetto a questi sbilanciamenti catastrofici come questo PETM non è stato il peggiore è uno che è ben noto ma ci sono stati ben di peggio che fa sì che tutto il sistema climatico sia a rischio nel senso che tende alla stabilità ma è soggetto a questi sbilanciamenti che sono dovuti a emissioni principalmente sono dovute a emissioni improvvise rapide in termini geologici di biossido di carbonio nell'atmosfera qui abbiamo avuto vedete questa è una scala di temperature abbiamo avuto un salto di temperature di una decina di gradi nell'arco di qualche migliaio o forse qualche diecimila anni molto stretto in termini geologici ma dal punto di vista dell'ecosfera 10 gradi di più o di meno non fa gran differenza dal punto di vista di una cosa come potrebbe essere la civiltà umana 10 gradi in più o meno una certa differenza la fanno come vi potete tutti rendere conto che cosa causa questi cambiamenti rapidi ed improvvisi si ritiene con attenzione perché la cosa è complessa ma si ritiene che siano fattori geologici allora vi faccio vedere questo queste sono le deccan traps che in italiano li chiamiamo alle volte i trappi i trappi del deccan vedete queste queste strutture a gradini nelle lingue nord europee la parola trappola trap vuol dire gradino quindi non so chi sia che è andato a studiare per primo la geologia di queste strutture però sono il risultato di una serie di eruzioni vulcaniche molto lente che avvengono a strati che tendono a lasciare dopo questo è avvenuto a 65 milioni di anni fa che tendono a lasciare queste strutture stratificate trappole grande vedete la zona delle trappole o dei trappi se preferite grande come l'Italia e vi ricordate cosa è successo 65 milioni di anni fa tu te lo ricordi Filippo non c'eri 65 anni fa lo sapete tutti l'avete visto al cinema 65 milioni di anni fa l'asteroide e i dinosauri la sparizione dei dinosauri che tutti dicono almeno al cinema che è avvenuta per colpa dell'asteroide e c'è anche chi dice che è vero c'è tutta una teoria scientifica che cerca di dimostrarlo però in generale si ritiene tra i geologi che è più probabile e forse anche tutte e due le cose ma insomma non è chiarissimo qual è il rapporto di caso effetto comunque i dinosauri sono scomparsi per uno spike anche di alta temperatura generato da queste grandi province magmatiche voi potete immaginare come era 65 milioni di anni fa non è che abbia bruciato i piedi a dinosauri magari anche se c'erano dinosauri laggiù povere bestie ma più che altro ha emesso nell'atmosfera una tale quantità di CO2 di biossido di carbonio che lo ha perturbata talmente che il sistema di gestione il sistema di controllo della temperatura è andato fuori fuori servizio la temperatura si è alzata enormemente il sistema questo ha sterminato dinosauri per una serie di effetti che ora non vi sto a raccontare comunque stiamo a parlare di catastrofe nuove esplosioni nucleari le trappole o le grandi province magmatiche sono eventi che sono avvenuti in gran quantità nella storia terrestre per esempio questo qui sono le trappole magmatiche lì trappi siberiane avvenuto circa 250 milioni di anni fa uno dei fenomeni più intensi di questo tipo anche qui vedete si è preso mezza Siberia vi dovete immaginare che 250 milioni di anni fa tutta quest'area o quasi tutta era tutta fusa e vi potete aspettare che questo aveva degli effetti importanti sulla terra su tutto l'ecosistema infatti questo corrisponde a una delle più grandi estinzioni di massa osservate nella storia del nostro pianeta l'estinzione della fine del Permiano che è meno nota di quella dei dinosauri ma c'è stata ed è stata anche più importante allora vedete i dinosauri può darsi che ci sia stato anche di mezzo l'asteroide o può darsi sia stata puramente una coincidenza come si dice agli zoppi grucciate agli dinosauri asteroidate però sappiamo oggi c'è una molto chiara corrispondenza vedete queste strisce rosse qui sono tutte grandi province magmatiche e a queste grandi province magmatiche corrispondono estinzioni questi picchi in blu sono le grandi estinzioni degli ultimi 300 milioni di anni circa quindi scusate la più grande dovuta a questi trappi siberiani alla fine del Permiano questa è quella dei dinosauri del Deccan e non è stata la più importante vedete insomma la storia della terra è abbastanza catastrofica non è che uno parla di cose certamente dice fra uno e l'altro sono passati diverse decine di milioni di anni quindi uno può dire beh se io mi trovo a metà fra le due sto abbastanza tranquillo però attenzione l'effetto di questi trappi di queste grandi province magmatiche è di mettere CO2 nell'atmosfera che è la stessa cosa che stiamo facendo noi anche di più e anche più rapidamente quindi questa è un po' la preoccupazione che abbiamo vedete a questo punto entra di mezzo la signora Gaia la dea della terra che vi ho rappresentato qui in questa vignetta che è molto divertente trovo perché molto spesso quando si parla di cambiamento climatico uno dice guarda questa cosa qui dice ma che male c'è e sono successi dei cambiamenti sì sono morti tutti i dinosauri dico vabbè ma e in questa scena non so chi intervista la dea della terra richiede ma signora Gaia ma qual è il problema si scalda un po' la terra e lei dice ma dice no per me nessun problema dice sono voi umani che vi dovrete trovare un altro pianeta perché perché quando si parla di queste cose queste grandi province magmatiche si parla di aumenti di temperatura dell'ordine 10-15 gradi centigradi e per noi umani nella nostra attuale civiltà basta 5-6-7 gradi basta solo dire che questo porterebbe allo scioglimento meglio detto alla fusione delle calotte polari antartiche e della Groenlandia questo vuol dire un aumento del livello dei mari di almeno 60 metri solo per lo scioglimento ma in realtà ben di più per altri effetti termici che vuol dire che qui dove sono io siamo a un'altezza di circa 40-45 metri sul livello del mare vuol dire che saremo sott'acqua o benché vada saremo sulla spiaggia come siete voi a sentire presumo resistete altri 5 minuti perché siamo a parlare di grandi disastri e questo non è il disastro peggiore ci sono disastri ben peggiori di questo vedo l'udienza non scappate non andate via resistete altri 5 minuti si dice ma si lo so ti ha dimenticato il gas acceso aspetta un altro minutino un altro minutino Laura so che poi lo spegnerà ti prende fuoco la casa cosa vuoi che sia in confronto alla distruzione dell'ecosistema terrestre ecco qua la distruzione dell'ecosistema terrestre allora questa è una cosa che si sa ormai da diversi anni ma vedete sempre più o meno siamo su quel tipo di idee siamo su un sistema metastabile che tende ad andare verso la stabilità allora questa curva qui è impressionante ma importantissima è anche poco nota ma è nota da tempo è il primo che che l'ha sviluppata è un signore un climatologo russo che si chiamava Budiko negli anni 60 ora poi è stata rifatta da questi due altri climatologi fisici russi Gorskov e Makarieva e vedete come funziona il sistema terrestre è dovuto alla combinazione fra albedo effetto serra e intensità della radiazione solare la terra è un sistema a due stati stabili uno e tre questi sono stati stabili vi ricordate cosa abbiamo detto come la trappola apertopio è uno stadio stabile metastabile quando la trappola è caricata quando la rilasciate lo stadio è stabile a quel punto la trappola è ferma lo stato stabile per il pianeta Terra è questo qui indicato col numero 3 che è l'inferno Terra 600 gradi Kelvin circa 300 gradi centigradi qualcosa di simile a temperatura più o meno della pizza a questa temperatura qui l'ecosfera non può sopravvivere non può sopravvivere la biosfera non sopravvive niente e allora la domanda è ma com'è che non siamo già lì se questo è lo stato stabile è la trappola apertopio la trappola finché nessuno la tocca la trappola non scatta noi siamo qui molto probabilmente in un minimo locale di energia scusate scusate ecco questo un minimo locale di energia che è gestito dalla dea Gaia che ci tiene lì finché può con qualche oscillazione nella storia della Terra è successo almeno qualche volta che siamo finiti qui però ci sono dei meccanismi un po' miracolosi che l'hanno ritirata su la biosfera e ritornati qui finché noi siamo qui intorno ai 10-15 gradi temperatura media ci stiamo bene perché siamo evoluti in queste condizioni se per caso andiamo a rotolare giù e finire qui il termine inferno è corretto perché dall'inferno come l'udienza che ho qui davanti molto molto limitata però attenta mi sta dicendo è così non se ne esce dall'inferno come ben sapete avete letto Dante dall'inferno non si esce più infatti è vero e attenzione questo è il nostro destino in ogni caso perché vi ho detto all'inizio che il sole tende a aumentare la sua radiazione nel tempo e a lungo andare siamo necessariamente finiti qui il problema è quanto a lungo prima o poi ci finiamo i calcoli dei modelli quelli dei climatologi ci dicono beh sì insomma 5-600 milioni di anni non è preoccupante però attenzione oggi sono a spaventarvi film dell'orrore non vi preoccupate film dell'orrore come uno dice mettiamo uno di voi a 20 anni sapete che uno che ha 20 anni che la vita media in Italia ha 82 anni uno dice c'ho ancora da accampare 62 anni esci fuori di casa ti mette sotto l'autobus sei fuori dalla statistica non è andata male ma qui in realtà noi non sappiamo se una perturbazione sufficientemente forte potrebbe scaraventare la terra qui non in 600 milioni di anni ma magari qualche milione di anni qualche migliaio di anni qualche decina di anni non lo si può escludere d'altra parte vabbè non vi preoccupate ora ho stipendiato degli zombie che arrivano qui per fare proprio il film dell'orrore ma se volete divertirvi al film dell'orrore questo è il film dell'orrore cioè il destino della terra prima o poi diventare qualcosa di simile a Venere non esattamente la stessa cosa di Venere necessariamente quello che noi possiamo fare è cercare di evitarlo come del resto se tu hai 20 anni e vuoi campare fino a 82 cerchi di stare attento a dove passa l'autobus perché non è non il fatto che la tua vita media sia ancora lunga non vuol dire che tu sei immortale e quindi diciamo che quando per finire questa cosa la dissipazione dei potenziali termodinamici può essere molto pericolosa e vi lascio con con la frase di Seneca che ovviamente voi sapete tutti benissimo il latino la traducete senza problemi in realtà vabbè io me la sono studiata a casa quindi è quello il trucco Seneca dice che sarebbe bello se le cose perissero altrettanto lentamente di come crescono ma purtroppo nunca incrementa l'ente exeunt tuttavia la crescita è lenta festinatur in damnum ma la rovina è rapida e da questo ho preso questa idea dell'effetto Seneca allora io mi chiuderei qui perché sono esattamente 45 minuti non vi ho detto nulla su cosa fare per evitare i vari disastri magari se lo domandate possiamo discuterne un po' intanto questo è il film dell'orrore una volta che sei che sei a scappare dagli zombie non è che ti domandi che cosa si poteva fare per per tenere i morti dentro le casse del cimitero o cose del genere quindi io mi fermo qui e ringrazio la mia udienza non virtuale che sono stati veramente molto attenti un po' spaventati alcuni sono anche svenuti ma poi vi hanno dato dei sali lì si sono ripresi si sono ripresi spero che voi a casa abbiate resistito e vi ringrazio per la vostra attenzione grazie Ugo per questa interessantissima e anche sfiziosa lezione su un tema che comunque rimane cruciale per il nostro futuro e che e che ovviamente interessa molto le persone a casa che hanno inviato alcune domande per approfondire appunto questo tema qualcuno ci chiede di di andare un po' più nel dettaglio sul ruolo degli alberi delle foreste che tu hai soltanto in parte ricordato perché ci ricorda un nostro un nostro partecipante a questa questa giornata nelle politiche si 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 tende a mitigare soprattutto la 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 cercare di diminuire la combustione di fonti fossili ma spesso non c'è secondo questo nostro partecipante non c'è molta attenzione sul sul ruolo delle foreste che eventualmente potrebbero essere anche gestite in maniera diversa ecco una tua visione sulla parte infatti questo l'avevo saltato ma l'avevo preparato perché chiaramente ci sta ho menzionato forse forse qualcuno si ricorda che la dottoressa Macarieva che si occupa di foreste è venuta qui a Firenze a farci un talk un seminario a settembre dell'anno scorso e la Macarieva ha inventato è una delle che ha dei tanti che lavorano sul ruolo delle foreste nel clima che una delle cose che cominciamo a capire è l'importanza del ruolo delle foreste è fondamentale che è una cosa diversa dagli alberi tutti dicono che piantiamo alberi va bene ma un albero è una cosa non fa grosso effetto climatico anche tanti alberi non fanno un grosso effetto climatico ma una foresta è una cosa completamente diversa sta avvenendo fuori ora è una cosa che negli ultimi anni questo fatto che ci sono questi grandi flying rivers fiumi volanti avevate mai sentito dire i fiumi volanti sono un risultato dell'attività delle foreste che portano pioggia sono delle grandi pompe il Makariev e Gorshkov lo chiamano la pompa biotica la pompa biotica è una specie di macchina immensa generata dalle foreste che tira acqua dall'oceano e la porta all'interno dei continenti cosa che se ci pensate un attimo è anche curioso che tutta la Siberia vedete qui fino alla Cina sia tutta forestata e di dove arriva tutta quest'acqua se fosse semplicemente un effetto atmosferico l'acqua si scaricherebbe in gran quantità si è vero viene fuori evapora poi arriva sulla terra e si scarica ma si scaricherebbe principalmente sulla diciamo vicino all'oceano invece la pompa biotica la trasporta tutta la strada fino alla Cina non è uno scherzo e ci sono altre pompe biotiche come quelle o fiumi volanti se preferite diciamo che la teoria della pompa biotica è controversa è uno dei meccanismi che portano a far funzionare questi fiumi volanti ma non c'è nessun dubbio che i fiumi volanti esistono e sono quelli che tengono insieme la la foresta amazzonica le varie foreste del Canada dell'Africa centrale della Siberia dell'Asia e tanti altri luoghi questa l'Australia per esempio non ha questo meccanismo è un gran deserto allora questo è un punto centrale nella stabilità del clima terrestre diciamo le foreste di per sé cambiano solamente un po' l'albedo ma ci sono dei fattori molti fattori correlati all'attività della foresta che a fine hanno effetto diretto sulla temperatura se andate a vedere i dettagli di come funziona la faccenda le foreste hanno un effetto raffreddante non c'è nessun dubbio su questo punto e ne consegue che se vogliamo evitare di finire nella trappola per topi dobbiamo cercare di gestirci di mantenere non piantare alberi ma mantenere le foreste e uno dice molto spesso è venuto di moda anche il comune di Firenze è suo piccolo poi arriva Xi Jinping in Cina ci pianta un miliardo di alberi il comune di Firenze un miliardo di alberi avrebbe qualche difficoltà però avete sentito dire del grande muraglia verde della Cina che il governo cinese ha deciso di piantare un miliardo ma insomma siamo su numeri di questo genere una gran quantità di alberi qui in Mongolia per cercare di fermare l'avanzata del deserto non è che abbia funzionato molto bene perché se in certi luoghi non ci sono foreste vuol dire che c'è una ragione per la quale le foreste non ci sono non basta piantare alberi perché devi innescare il meccanismo della pompa biotica altrimenti l'albero si limita a risucchiare l'acqua dalla falda freatica dopodiché quando l'ha esaurita muore ed è più o meno quello che in gran parte non completamente è successo con questa grande muraglia verde ma questi continuano a piantare alberi quindi non li fermi facilmente i cinesi quindi magari li riesce anche ne pianti tantissimi ne muore tanti ma alcuni sopravvivono quindi uno dei punti fondamentali le foreste che dobbiamo assolutamente mantenerci queste foreste pluviali cosa che non stiamo facendo perché sono uno dei meccanismi che tiene insieme la biosfera come pure un altro meccanismo che sono le balene che hanno un effetto climatico anche quelle si comincia a capire anche questo dell'effetto climatico delle balene e una cosa importante abbiamo bisogno di più balene ricordatevi nel caso nel caso che capiti di non so cosa fare a favore delle balene ma abbiamo bisogno di balene 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 e anche quello aiuta il clima proprio forse perché parlando di foreste è giunta un'altra domanda in merito ci hai fatto vedere dei modelli matematici misure precise ecco ci viene chiesto se c'è una misura sulla quantità di foreste in chilometri quadri o numero di alberi su questo pianeta sotto la quale potrebbe veramente innescarsi questa trappola per topi c'è una misura ovviamente è una buona domanda una buffer zone più o meno non precisa ovviamente ma più o meno precisa precisa no a un certo punto però è sempre il solito discorso cioè abbiamo una trappola che si sgancia a un certo punto la foresta amazzonica è un fiume è un fiume volante finché è tutta intera quando la spezzetti a pezzetti il fiume si interrompe e la foresta muore a che punto esattamente questo credo non lo sappiamo non lo sappia nessuno sono quelle cose immaginatevi di essere un topo che vedete il formaggio dice ma fino a che punto mi posso avvicinare ad acchiappare questo formaggio senza far scattare la trappola non lo sapete di sicuro lo potete sperimentare a vostro rischio e pericolo cambiamo un po' argomento passiamo dalle foreste ai ghiacci perché che tu hai ovviamente citato nella tua nella tua lezione nel tuo intervento ci viene chiesto si sente dire che lo scioglimento del permafrost siberiano lo scioglimento dei ghiacciai libera ulteriormente in atmosfera CO2 cioè oltre all'innalzamento dei mari c'è questo problema dell'immissione di ingenti quantità di gas serra esiste questo fenomeno c'è una misura ed è un fenomeno reale il fenomeno esiste senza dubbio cioè la liberazione di metano principalmente non tanto CO2 ma che poi il metano si trasforma in CO2 per effetto dei batteri però è molto difficile quantificarlo in realtà non sappiamo a che livello a che punto a che tempi questa cosa si stia verificando vedete vi porrei far notare l'effetto dell'epidemia è stato molto difficile prevedere l'effettivo andamento dell'epidemia io come tanti che fanno modelli ho cercato di seguirla fin dai primi dai primi tempi e ho visto come i modelli potevano essere completamente sballati ma sballati enormemente si parlava in Italia di centinaia di migliaia di morti che invece ci siamo limitati a 35.000 stessi tanti ma insomma molti meno però quando vedi una curva che sale è estremamente difficile prevedere quanto e quanto in fretta salirà è lo stesso del discorso del metano dal permafrost dei ghiacci non sappiamo esattamente cosa può succedere diciamo alcuni dati abbastanza recenti indicano che il fenomeno potrebbe non essere così male come in alcuni come è stato detto per il momento stiamo osservando un aumento della concentrazione di metano nell'atmosfera ma siamo ancora entro limiti non preoccupanti che vuol dire state attenti ancora la tua zampina di topo è vicina al formaggio ma non tanto da far scattare la trappola e molti messaggi arrivano semplicemente per ringraziarti quindi ti riporto sono anonimi qualcuno sono già arrivati tre messaggi semplicemente di un sincero ringraziamento vado avanti con le domande ci sono ancora due o tre domande in merito in particolare alle soluzioni ovviamente abbiamo capito più o meno che i fenomeni naturali sono in parte misurabili ma rimane ovviamente un certo grado di incertezza su quello che sarà l'evoluzione futura però senza dubbio sappiamo che i gas e serra sono immessi nell'atmosfera dalla in genere dalla produzione di energia l'energia di cui abbiamo bisogno ovviamente per vivere e per organizzare la nostra vita sociale economica e così via quindi ci viene chiesto prima di tutto se sole vento rinnovabili possono da sole sostituire i combustibili fossili e questa è una domanda che arriva sempre a questo punto possono le rinnovabili sostituire i combustibili fossili vi posso dire è un argomento su quale abbiamo lavorato con i miei collaboratori abbiamo pubblicato svariati articoli variati studi non siamo i soli averlo fatto e se guardiamo la letteratura scientifica vediamo che più o meno c'è un certo accordo su cosa è possibile fare e però la domanda va splittata in sotto in sotto pezzetti primo è fisicamente possibile e questo non c'è dubbio e la risposta è affermativa noi siamo perfettamente in grado di produrre energia rinnovabile dal sole dal vento da altre sorgenti come l'acqua l'acqua la marea altre cose il geotermico quello che volete ma principalmente sole in seconda battuta vento è possibile secondo punto quanto costa e questo diciamo io se mi permettete userei un termine un po' informale costa uno stonfo costa tanto non è una cosa che arriva gratis perché devi fare degli investimenti investimenti non piccoli che si parte a questo punto l'energia rinnovabile dal mondo siamo in termini di energia elettrica siamo su 10% meno del 10% secondo dove secondo che zona secondo che area da partire da qualche per cento al cento per cento vuol dire investire tanto terzo punto possiamo permettercelo anche questa è la domanda veramente cruciale e anche qui la risposta dei nostri studi è affermativa sì possiamo permetterci nel senso che si può permettere certe cose posso permettermi non so di comprarmi una casa al mare sì però è un grosso sforzo economico per chiunque mediamente quarto punto lo faremo un sacrificio uno sforzo economico e la risposta qui non si può tirare fuori dai modelli perché è una decisione politica e lascio a voi di pensare se nell'attuale situazione politica qualche politico è in grado di venire al microfono e dire signori dovremmo fare qualche sacrificio rinunciare a qualche cosa per investire per i nostri figli e vi lascio la risposta alla vostra domanda con un'altra domanda a cui potete rispondere altrettanto bene di me vedremo vedremo la volontà politica sempre collegata a questo forse anche indotto non so se avete visto in settimana il film su Chernobyl che sinceramente è molto toccante ci viene chiesto se alla luce di quello che tu hai appena detto se l'energia nucleare può essere una soluzione secondo te e anche questo è un punto molto controverso non c'è dubbio che l'energia nucleare possa creare delle ottime bombe atomiche questo lo sappiamo che si può creare anche energia nucleare anche questo funziona abbiamo una certa frazione dell'energia che noi consumiamo in Italia viene dalle centrali nucleari francesi la domanda anche qui è più o meno la stessa possiamo in grado di espandere la produzione nucleare a coprire l'attuale consumo anche lì si parla dell'energia nucleare in totale a qualche per cento del consumo di energia primaria del mondo quindi questo vorrebbe dire siccome vogliamo aumentare la produzione nucleare non di un fattore 10 ma di oltre un fattore 10 diciamo un fattore 50 o 100 dovremmo costruire per ogni centrale nucleare che c'è oggi dovremmo costruire almeno 50 il che onestamente con la tecnologia attuale con le disponibilità di uranio che abbiamo non è proponibile semplicemente non c'è modo di far ripartire un'industria che ormai è in declino quella nucleare è in declino e di rimetterla in grado di costruire migliaia parecchie migliaia decine di migliaia di centrali nucleari in un arco di tempo che non va oltre il 2050 perché quello di cui stiamo discutendo in termini di cambiamento climatico di stop dell'emissione di gas a serra si parla di pochi decenni è molto improbabile che si possa gestirsi un cambiamento di prospettiva economica e industriale che ci possa portare in quella direzione guardate è una cosa spaventosa a pensarci anche perché in Italia avevamo un'industria nucleare fino agli anni 60 si potevano costruire centrali nucleari ma quell'industria è stata smantellata per buone o cattive ragioni non mi fate entrare in questo argomento ma se la vediamo dal punto di vista del sistema Italia sistema paese certamente noi siamo quelli piazzati peggio di tutto il mondo fra virgolette sviluppato perché la nostra industria nucleare non esiste più non abbiamo né tecnici né competenze né industria né sì qualche cosa c'è non è proprio zero ma l'ansaldo ancora fa qualcosa per l'energia nucleare ma sono non so se vi rendete conto vorrebbe dire che noi dovremmo comprare la tecnologia la competenza i brevetti la conoscenza dovremmo importare anche le persone che sanno gestire e costruire centrali nucleari e l'uranio cioè ci metteremmo completamente mani e piedi testa collo orecchie naso nelle mani dell'industria nucleare internazionale ed è una cosa che onestamente non è fattibile in questo momento non in questo momento ma insomma il sistema Italia non è in grado di fare uno sforzo del genere è diverso il caso per esempio di paesi come la Russia e la Cina che invece stanno facendo un certo sforzo perché hanno le competenze hanno l'uranio hanno le bombe atomiche cosa che li ha mantenuto queste competenze perché l'industria nucleare è nata con l'industria delle armi nucleari è un off shoot dell'industria militare quindi rimane questa capacità come pure negli Stati Uniti a questa fase storica se riusciamo a cavarcela in qualche maniera cosa non ovvia ma bisogna puntare su una cosa che possiamo costruire qui e che possiamo installare qui che possiamo gestire qui e che sappiamo come farla funzionare che è l'industria solare non abbiamo ragionevolmente altre opzioni bene grazie direi di concludere c'è un'ultima domanda come spesso accade sono più le risposte diventano interrogativi perché giustamente non c'è una risposta univoca a degli eventi così complessi e anche imprevedibili però l'ultima domanda forse può essere abbastanza precisa tu hai lanciato un sasso parlando dell'effetto sul clima delle balene e ovviamente è arrivata una domanda che vorrebbe capire meglio come le balene possono incidere sul cambiamento climatico le balene sono una cosa che mi piace tantissimo perdonate ma io ci sento tantissimo per le balene proprio non ho mai vista una in mare sono anche andato una volta a fare una crociera per andare a vedere le balene e ne ho riportato un mal di mare spaventoso ma non è nessuna balena però lo stesso ci sento tantissimo perché le balene non si sa come ma in qualche modo hanno un loro fascino particolare ora quello che vi stavo raccontando è che noi siamo reduci di uno studio io e la mia collaboratrice la dottoressa Perissi abbiamo scritto questo libro che però è il risultato di uno studio modellistico dell'industria della pesca in cui abbiamo cominciato modellizzando l'industria delle balene l'industria della caccia alla balena pesca alla balena caccia alla balena come volete a diversi anni ci lavoravamo sopra e una volta che entri in questo argomento ti accorgi la storia della caccia alla balena una storia lunghissima già i romani la facevano all'epoca loro ci sono dei riferimenti di Procopio di Cesarea che parla di questa grande balena che il generale Belisario il generale Belizzantino andò a caccia di questa balena su una trireme armato di una ballista per cercare di ammazzare questa balena e non ci riuscì e da allora oggi c'è tutta una storia lunghissima però il discorso è questo fino a non tantissimi anni fa qualche secolo diciamo un secolo e mezzo due secoli fa c'era una quantità di balene nel mare che non vi immaginate neanche i capitani di certe navi raccontano che la nave non avanzava perché andava a sbattere nelle balene da quante ce n'era e le balene sono quello che si chiama il predatore apicale in termini tecnici cioè la creatura più metabolicamente che ha il metabolismo più rapido nell'oceano che ha un metabolismo estremamente rapido mangia tantissimo e produce tantissimi escrementi e fertilizzano il mare e la balena ha un effetto fortemente positivo per questo che rimescola continuamente e rifertilizza il mare che fa questi boom di plankton i quali tirano giù il biossido di carbonio all'atmosfera non è facile quantificarlo è questo perché non sappiamo esattamente che effetto potrebbe avere ma le balene che ancora esistono oggi sono se va bene un 10% di quelli che c'erano 200 anni fa quindi l'effetto sul clima delle balene è forte io ho una mia teoria che vi racconto non la dite a nessuno questo è questo è solo mi raccomando la sto sviluppando se la volete pubblicare provate voi ma secondo me la discesa di temperatura che si è osservata nel cenozoico a un certo punto è dovuto all'evoluzione delle balene a un certo punto circa diciamo 45 milioni di anni fa prima le balene erano un altro tipo c'erano molte meno a un certo punto esce fuori lo sviluppo l'evoluzione delle balene e c'è un calo della temperatura terrestre a mio parere quel calo è dovuto all'apparizione nell'ecosistema delle balene non lo dite a nessuno è perché non c'ho prova di questa cosa ho detto solo troppo presto che era l'ultima domanda perché continuano ad arrivare altre domande che ti pongo con entusiasmo e con felicità perché dimostra l'interesse che questa lezione e questo intervento ha avuto tra i nostri partecipanti ci viene chiesto in merito a un altro essere vivente che vive su questo pianeta non so se conosci si chiama genere umano non so se hai mai sentito parlare del genere umano e la domanda è più precisamente questa la popolazione mondiale sta aumentando non so ci viene chiesto se puoi applicare la tua visione della trappola la trappola demografica in qualche modo se se questa popolazione è destinata a scendere se dovrà scendere in qualche modo per gli stessi meccanismi delle trappole dal tuo punto di vista e ovviamente dal punto di vista della scienza anche questa è una domanda interessante e come sempre succede siccome siamo in una curva che cresce è estremamente difficile prevedere quando smetterà di crescere e in che modo smetterà di crescere quello che possiamo dire è che la popolazione umana è estremamente resiliente negli ultimi diecimila anni buoni ha continuato ad aumentare solo con dei piccoli momenti di stasi o di declino anche le grandi epidemie del medioevo tipo la peste nera quella del metà del quattordicesimo secolo che si portò via un 40% della popolazione europea secondo alcuni però pochi decenni dopo la popolazione era di nuovo ritornata a valori di prima della peste e cresceva molto rapidamente anzi probabilmente cresceva di più questo è abbastanza tipico quando succede una di queste di queste catastrofi c'è un momento di ripresa e di ritorno poi anzi la grande espansione europea che poi avvenne nel cosiddetto rinascimento l'espansione sui mari da Cristoforo Colombo e tutta questa gente qui probabilmente avvenne su quest'ondata di ritorno dalla peste nera che aveva creato una popolazione abbastanza giovane in un territorio che a quel punto si era potuto anche un po' rigenerare e per cui non è così facile capire che cosa dovrebbe fare la popolazione umana certamente se uno ci pensa sopra è preoccupante almeno io non ho mai veramente utilizzato questi modelli per studiare la popolazione umana però vi posso raccontare di quello che leggo e quello che leggo è molto frammentario non si riesce veramente a fare un modello che ci dica qualcosa di chiaro perché è un argomento politicamente difficile cioè tu non puoi fare un modello e pubblicarlo in cui dici moriamo tutti entro i prossimi vent'anni messo che ti venga fuori un modello del genere per cui è difficile dire l'unica cosa che ho visto è che i modelli sono molto molto variabili i modelli delle Nazioni Unite dicono che ci stabilizzeremo intorno agli 11 miliardi a mia modesta opinione sono modelli completamente sbagliati ma chi sa mai che non abbiano ragione come tu sai Filippo la demografia è un'arte estremamente difficile che io non ho molta fiducia dei modelli che si usano oppure se non ci stabilizziamo faremo una traiettoria tipo la curva di Seneca che potrebbe anche succedere ma diciamo anche qui che molta gente dice avremmo molti meno problemi se ci fosse molta meno gente il che è vero però dopodiché ne consegue e allora che cosa ne consegue anche qui se dice sì allora facciamo meno bambini va bene ma comunque l'inerzia della popolazione è tale che in questo momento stiamo continuando ad aumentare continueremo se non succede nessun disastro cosmico tipo la trappola per topi su scala veramente gigantesca continuiamo ad aumentare probabilmente fino ai 10 11 miliardi di persone davvero oppure succede qualche disastro cosmico a un certo punto all'inizio dell'epidemia della pandemia di coronavirus uno si è preoccupato molti sono preoccupati addio arriva la peste nera veramente muore il 40% della popolazione umana in realtà non è successo io direi per fortuna onestamente perché in realtà siamo su quantità infinitesimale in Italia come vi dicevo che è stato uno dei paesi più colpiti abbiamo avuto circa 35 mila vittime su una popolazione di 60 milioni è veramente una cosa minimale sulle curve di crescita della popolazione non lo vedi neanche non è facile esterminare gli esseri umani sono gente robusta in media bene questa era davvero l'ultima domanda quindi possiamo potete andare in spiaggia prendere i vostri secchielli e muovervi verso le spiagge noi ringraziamo il professor Ugo Bardi per questa interessantissima lezione per gli interrogativi che sono emersi e ringraziamo l'università di Firenze ovviamente per questa nuova giornata come vi ricordo che gli appuntamenti sono ovviamente sospesi semplicemente per il periodo estivo e il prossimo appuntamento sarà nel mese di ottobre che verrà adeguatamente pubblicizzato e quindi auguriamo a nome del del rettore a nome della prorettrice Laura Solito a tutti voi una serena estate e ci rivediamo a ottobre grazie a tutti grazie mille anche a quelli dell'audienza che sono svenuti e che sono stati rianimati ma insomma vedo che ora stanno abbastanza bene grazie mille grazie mille